La procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia di una migrante nigeriana ospite del Cara di Mineo, che il 9 dicembre ha partorito una bambina. La donna sostiene di essere stata in attesa di due gemelli e non di un solo bimbo. A favore della tesi della migrante ci sarebbe un'ecografia fatta all'ospedale Santo Bambino di Catania in cui si vedrebbero due feti e non uno, e non uno solo, secondo quanto affermato dall'ospedale di Caltagirone.